ragazzi sono arrivato allora qua alle mie spalle c'è negozio triple 20 che è un negozio quasi unico nel suo genere in italia di praticamente materiale per chi gioca a freccette ecco un negozio dedicato esclusivamente al gioco delle freccette fantastico adesso entro sono entrato nel negozio triplo 20 e qua insomma diciamo che un paradiso per chi gioca a freccette come potete vedere potete trovare qualsiasi cosa che possa interessare sul mondo delle freccette veramente di tutto un saluto al pubblico invito se siete da queste parti o anche se non lo siete perché io vengo da bologna per vedere il negozio quindi invito a venirlo a visitare perché ne vale veramente la pena potete provare anche le freccette per scegliere qual è per voi la migliore che dire venite di persona perché ne vale la pena come ho detto comunque c'è anche il sito web che è www.triplo20.it 20 con scritto numero giusto ciao a tutti seguite il mio consiglio